Ma perché non riesco a suonare quel maledetto passaggio del mio solo preferito? Beh, probabilmente perché sbagli ad esercitarti. Molte persone che cercano di imparare, ad esempio, l'assolo di Switch al Domain, lo esercitano sempre dall'inizio alla fine. Si parte, fino a un certo punto è tutto ok, ma poi arriva quel maledetto passaggio. Quello che bisogna fare è esercitare solo quel passaggio. L'ideale è isolare una sezione di quattro quarti e suonarla in loop su metronomo. Partendo lentamente e poi accelerando. Su lezionechitarra.it trovi la lezione completa, lo spartito da scaricare gratuitamente e i miei corsi online. Link in bio o in descrizione del video. Ciao!